Ciao, io sono un casino online. Io sono il casino di Paddy Power. Con me puoi giocare comodamente davanti al tuo computer. Con me puoi farlo in piedi per terra, al parco. Al parco? Con lo smartphone e il tablet. Io preferisco seduto, più comodo. Non ti giudico, fratello. Gioca dove vuoi e quando vuoi con la nostra app. Casino di Paddy Power, quando il gioco si fa duro. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.